Ok, sono quasi allo stadio, andiamo al cammino di un chilometro, è il spettacolo. Qui c'è il cartello, passo dello stadio. Qui l'agente inizia a tirare, io la lento, anche, siamo, eh? Oh, bello bello, bella giornata oggi, e insieme c'è il rifugio. Allora! 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 C'è solo, eh? Allora! Allora! Siamo eh Vedi spettacolo Vai spesi Allora ci siete? È arrivato a Morbio allo sedio, arriva la colonnina e mi fermo. Questa volta ce l'ho fatta. È stato bello. È arrivato, grazie. È arrivato a Morbio allo sedio.